Benvenuto su questo video. In questo video verrà trattato il grande silenzio di comunicazioni intelligenti nell'universo, senza la pretesa di dare risposte, ma solo presentare diverse ipotesi di soluzioni plausibili, come possibili spiegazioni a tale fenomeno. Questo fenomeno, detto anche paradosso di Fermi, consiste nella constatazione che dato l'enorme numero di stelle nell'universo osservabile, che consiste in una sfera, centrata sull'osservatore, di un diametro di circa 93 miliardi di anni luce, e probabilmente ancora molte stelle di più nella parte non osservabile dell'universo, e che quasi tutte hanno pianeti, con alcuni nella fascia abitabile, è naturale ipotizzare che la vita possa essersi sviluppata su un grande numero di pianeti e che moltissime civiltà extraterrestri evolute siano apparse durante la vita dell'universo. Cioè è mai possibile che la vita si sia sviluppata solo sulla Terra? Se così fosse, per dirla con Carl Sagan, sarebbe davvero un enorme spreco di spazio e risorse. Da tale constatazione nasce naturale la domanda. Se l'universo e la nostra galassia pullulano di civiltà sviluppate, dove sono tutte quante? Oppure, se ci sono così tante civiltà evolute, perché non ne abbiamo ancora avuto le prove, come trasmissioni radio, sonde o navi spaziali? Oppure, perché questo grande silenzio dalle profondità dell'universo? Il paradosso di Fermi viene enunciato con la domanda, dove sono tutti, in inglese, where is everybody? Ecco la storia di come è nata questa famosa domanda di Fermi, così come l'ha riportata Edward Teller, un collega statunitense dello scienziato italiano. Nel 1950 ai laboratori di Los Alamos, mentre Teller passeggiava con Fermi e altri verso il Fuller Lodge per andare a pranzo. Camminando, si parlava scherzosamente di viaggi spaziali, ed in particolare, si parlava dei dischi volanti e del fatto che non fossero reali, fu proprio Fermi a sollevare esplicitamente la questione, chiedendo a Teller cosa ne pensasse e quanto ritenesse probabile che nei prossimi dieci anni successivi si sarebbe osservato un oggetto materiale muoversi più veloce della luce. Teller rispose un milionesimo per cento, e Fermi disse che era una probabilità troppo bassa. Secondo lui era superiore al dieci per cento. Qualche minuto dopo, mentre si stava pranzando e parlando di tutt'altro, Fermi se ne uscì con la domanda, ma allora dove sono tutti, che provocò una risata generale perché, nonostante la frase fosse totalmente avulsa dal contesto, tutti capirono che stava parlando ancora della vita extraterrestre. Sull'esistenza degli alieni, più in particolare di forme di vita extraterrestri intelligenti, letteratura, cinema, musica e scienza hanno detto praticamente tutto e il contrario di tutto. Al netto delle speculazioni più o meno immaginarie, suggestive o fondate, l'unica certezza è che, al momento, questi alieni ancora non si sono fatti vedere. Tutte le rilevazioni a distanza, che sono stati fatte in questo senso, fin dal 1960 con il progetto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, non hanno dato risultati significativi. Quindi ancora non abbiamo visto e sentito nulla e nessuno ci ha visitato. A questo paradosso di Fermi non abbiamo risposte, per il momento possiamo solo ipotizzare delle spiegazioni plausibili. Inoltre questo paradosso viene usato come confutazione delle stime dell'equazione di Drache, un'equazione formulata dall'omonimo astronomo e astrofisico nel 1961 e utilizzata per provare a stimare il numero di civiltà extraterrestri esistenti, in grado di comunicare nella nostra galassia. Nell'elencare alcune delle tante ipotesi fatte sul grande silenzio faremo riferimento alla scala di Kardasev, ampiamente trattata in questo canale in un precedente video, che classifica il grado di sviluppo tecnologico delle civiltà in base alla quantità di energia che utilizza. Questa scala consiste in quattro tipi di civiltà, che sono Civiltà di tipo 0 Questa civiltà utilizzerebbe solo una frazione dell'energia totale disponibile sul proprio pianeta. La civiltà umana è ancora una civiltà di tipo 0 Civiltà di tipo 1 Queste sono civiltà in grado di utilizzare tutta l'energia disponibile sul proprio pianeta d'origine. Civiltà di tipo 2 Queste civiltà sono in grado di raccogliere tutta l'energia emessa dalla stella del proprio sistema solare. Civiltà di tipo 3 Civiltà in grado di utilizzare tutta l'energia della propria galassia. Passiamo ora ad esaminare alcune delle principali ipotesi sul paradosso di Fermi. Non ci sono segni di civiltà superiori di tipo 1 2 o 3 Che potrebbero sviluppare comunicazioni e viaggi interstellari Perché non esistono civiltà superiori Cioè in questa ipotesi si afferma che non esistono civiltà molto più avanzate di quella umana E siccome la matematica, vedi equazione di Drache, suggerisce che invece dovrebbero esserci migliaia di queste civiltà solamente nella nostra galassia Vuol dire che c'è qualcosa che ci sfugge Questo qualcosa potrebbe essere il cosiddetto grande filtro L'ipotesi del grande filtro consiste nel ritenere che a un certo punto dello sviluppo di una civiltà Esiste una barriera che prima o poi tale civiltà deve affrontare e superare se vuole continuare a svilupparsi C'è quindi una fase All'interno del lungo processo di sviluppo di una civiltà Che è impossibile o molto difficile da superare Si possono fare tre ipotesi per quanto riguarda la civiltà umana Prima ipotesi, l'umanità ha già superato il grande filtro Il che significa che è estremamente raro per una specie raggiungere il nostro livello di intelligenza E questo spiegherebbe come mai non abbiamo rilevato indizi di civiltà extraterrestri E vorrebbe anche dire che noi potremmo essere una rara eccezione Saremmo in questo caso speciali ed anche il solo fatto di renderci conto che lo siamo ci porrebbe oltre il grande filtro Questa visione umano-centrica potrebbe far storcere il naso a prima vista Ma non è certo senza fondamento logico Ad esempio, se si prendono in considerazione alcune specie di scimmie Si può immaginare futuri prossimi in cui esse potrebbero fare un ulteriore passo evolutivo Acquistando forse la parola ed iniziando a utilizzare utensili Un po' come nella serie di film Il pianeta delle scimmie Vedere l'evoluzione in quest'ottica è sbagliato In quanto le specie animali hanno avuto lo stesso tempo a nostra disposizione per evolversi Ma solo noi siamo diventati quel che siamo oggi L'evoluzione agisce quindi seguendo una serie di meccanismi molto complicati E soprattutto l'evoluzione non porta necessariamente all'intelligenza L'evoluzione non ricerca il miglioramento Non è una scalata al successo Essa succede e basta Ha solo lo scopo della sopravvivenza della specie Non importa con quale mezzo Quindi lo stato in cui la nostra civiltà si trova adesso potrebbe essere ben più unico di quello che pensiamo Frutto di una serie infinita di coincidenze Come il fatto che il sistema solare si trova in una zona tranquilla della galassia Che la Terra ha un satellite come la Luna che ha triplicato il periodo di rotazione intorno all'asse Portando il giorno terrestre da 8 ore a 24 L'esistenza di grossi pianeti alla periferia del sistema solare che attirano asteroidi e comete Proteggendo da collisioni catastrofiche l'interno del sistema solare dove si trova la Terra Il fatto che la Terra si trovi nella fascia abitabile dove l'acqua è abbondante e dallo stato liquido La seconda ipotesi sul grande filtro è che non è dietro di noi Ma che la condizione in cui si trova l'universo, dal Big Bang fino ad oggi Solo adesso sta dando modo alla vita intelligente di svilupparsi e che noi Insieme forse ad altre specie extraterrestri Stiamo lentamente trovando la via per lo sviluppo di una civiltà superiore Che attualmente semplicemente ancora non esistono Siamo dunque in lizza per essere una delle prime superciviltà del futuro La terza ipotesi consiste nel constatare che se non siamo né rari né primi nell'universo Il grande filtro deve essere nel nostro futuro Questo suggerirebbe che la vita si sviluppa regolarmente fino al punto in cui siamo noi o anche oltre Fino ai viaggi interstellari ed oltre su altri pianeti Ma che poi arriva un qualcosa che impedisce allo sviluppo tecnologico di continuare E dunque raggiungere il livello di civiltà di tipo 2 o 3 Le cause della scomparsa di una civiltà possono essere sia naturali che culturali Se una civiltà tende naturalmente ad annientarsi È solo questione di tempo perché inventi i mezzi necessari per farlo L'unico dato osservato disponibile è che la nostra civiltà dispone da decenni i mezzi necessari per l'autodistruzione Ma per ora è sopravvissuta Anche in questo caso è difficile dire quanto la competizione gerarchica L'aggressività e l'autoritarismo Elementi del militarismo Siano prerogative della sola specie umana o siano costanti universali Legate all'evoluzione o all'organizzazione politica degli individui intelligenti Si consideri che non è necessaria una distruzione totale della specie Ma è sufficiente una involuzione a livelli primitivi dei sopravvissuti Per impedire a questa civiltà di comunicare Anche eventi catastrofici naturali possono considerarsi gravi pericoli per un pianeta che ospita la vita L'impatto di una cometa o di un asteroide Una pandemia ad alto tasso di mortalità Un impulso gamma L'eruzione di un supervulcano o l'alterazione delle condizioni climatiche Eccetera sono minacce alla vita Così come è avvenuto sulla Terra Più volte oggetto di eventi catastrofici Che hanno causato diverse estinzioni di massa La più nota è quella dei dinosauri Eventi di questo tipo sarebbero anche Anche prevedibili da una civiltà più avanzata della nostra Ma difficilmente rimediabili o prevenibili Il problema con questa tesi è che non esiste un campione statisticamente valido Con cui poter stimare il parametro di durata media di una civiltà evoluta Anzi il campione ha lo stato attuale composto da un solo caso Cioè noi Civiltà superiori con la capacità di comunicazioni e viaggi interstellari esistono Ma sono troppo lontane nello spazio e nel tempo L'universo è vasto Prendendo come riferimento la velocità della luce Essa impiega più di due milioni di anni solo per arrivare nella galassia più vicina È dunque possibile che esistano diverse civiltà evolute e desiderose di comunicare Ma isolate dalle enormi distanze intergalattiche Questa soluzione però implica che probabilmente siamo soli nella nostra galassia In contrasto con le stime meno ottimistiche dell'equazione di Drache Che ipotizza l'esistenza di 600 civiltà evolute Una forma corretta di questa tesi afferma che le civiltà aliene siano attualmente troppo lontane Oppure che esistono civiltà relativamente vicine ma che non hanno ancora intrapreso O intrapreso da poco Comunicazioni ed esplorazioni spaziali Anche questa ipotesi non è soddisfacente Se il principio di mediocrità Il quale afferma che la Terra è un pianeta del tutto comune In orbita attorno a una stella del tutto normale In una galassia come tante Eccetera deve essere applicato per postulare l'esistenza di altre specie aliene Deve essere applicato anche per scartare posizioni temporali speciali nella storia della galassia Come sarebbe quella dell'inizio della colonizzazione galattica Infine va considerato che due ipotetiche civiltà vicine nello spazio Ma separate da un lasso temporale anche breve nell'evoluzione tecnologica Sarebbero totalmente ignare l'una dell'altra Inoltre un'obiezione fondamentale a quest'ipotesi è che la limitazione può riguardare solo i viaggi interstellari Non le comunicazioni via onde elettromagnetiche alla velocità della luce Questa è proprio la motivazione dietro agli esperimenti del SETI che da decenni cerca di captare nelle onde radio Segni di una comunicazione intelligente diretta Cioè inviata volontariamente O indiretta Cioè fasci di onde radio usate per comunicazioni locali e propagatosi nello spazio L'assenza completa di queste trasmissioni non può essere imputata all'enorme distanza Secondo il fisico Roger Penrose, ideatore della cosmologia ciclica conforme, secondo cui l'universo ha un'età infinita Alcuni segnali nella radiazione cosmica di fondo potrebbero anche indicare fonti di energia provenienti da civiltà aliene precedenti al Big Bang dell'attuale periodo dell'universo Civiltà che sarebbero quindi molto lontane da noi nel tempo Civiltà intelligenti ed avanzate hanno già visitato la Terra Considerando che l'uomo abita la Terra da 250.000 anni e le testimonianze storiche più antiche note risalgono solo a 5.500 anni fa Gli extraterrestri potrebbero essere arrivati sulla Terra ed avere incontrato solo gruppi di cavernicoli I quali non hanno avuto nessun modo di comunicarlo ai posteri La galassia è stata colonizzata, ma viviamo in periferia Ci potrebbe essere o essere stata una colonizzazione della nostra galassia, messa in atto da specie superiori Ma la nostra Terra potrebbe essere stata considerata non interessante e non meritevole di essere visitata La colonizzazione fisica di pianeti e galassie è una cosa obsoleta e ridicolmente retrograda per una specie avanzata Per una civiltà che ha raggiunto una perfezione tecnologica e vive in una specie di utopia potrebbe vedere il mondo fisico come terribilmente primitivo ed inadeguato e quindi privo di ogni attrattiva Esistono civiltà evolute, ma non comunicano o non vogliono comunicare Anche se una civiltà sviluppa i mezzi adatti, non è detto che abbia l'idea o il desiderio di comunicare con altri mondi o perché non li considerano degni Ad esempio potrebbero considerare la nostra una civiltà troppo arretrata o hanno paura di noi o perché pensano che un contatto diretto possa nuocere a noi oppure a loro o semplicemente non hanno mai sviluppato l'idea dell'esistenza di altre civiltà con cui comunicare Tuttavia concepire una specie aliena come un'unica entità non è soddisfacente Se più la civiltà aliena nel suo complesso fosse disinteressata, timorosa o non desiderosa di comunicare con altre civiltà ciò non preclude che al suo interno possano esistere individui o gruppi interessati a comunicare Inoltre, ed è un'obiezione determinante, indipendentemente dalla non volontà di comunicare una civiltà tecnologica evoluta e arrivata almeno alla scoperta e dall'utilizzo delle onde elettromagnetiche produrrebbe comunque messaggi inconsapevoli attraverso la propagazione nello spazio delle comunicazioni locali Teoria della foresta oscura Questo teoria concepita dallo scrittore cinese Liu Tixin nel romanzo La materia del cosmo è basata su due assiomi Primo assioma La sopravvivenza è il bisogno primario di una civiltà Di conseguenza le civiltà fanno tutto ciò che serve per garantirsi la sopravvivenza Il secondo assioma è che le civiltà crescono e si espandono ma le risorse nell'universo sono finite Conseguenza L'universo è una foresta oscura dove tutti si nascondono perché non appena sei notato sei catalogato come possibile concorrente alla sopravvivenza ti distruggono e ti depredano delle tue risorse prima che lo faccia tu Una civiltà tecnologica necessariamente produce una grande quantità di messaggi inconsapevoli almeno fino a che non subentra la sindrome della foresta oscura ammesso che questo sia l'evoluzione necessaria di ogni civiltà A questa teoria si può porre l'obiezione che l'unica civiltà tecnologica di cui abbiamo esperienza è la nostra e noi ci stiamo comportando in modo completamente opposto C'è una sola civiltà superiore che agisce come un superpredatore Come noi ci atteggiamo a padroni della Terra spazzando via ogni possibile minaccia così si comporterebbe una superciviltà la quale sradicherebbe ogni altra civiltà con uno sviluppo sufficiente da costituire una potenziale minaccia come avviene ad esempio nei due film di Independence Day Ciò spiegherebbe l'assenza di segnali captati dal SETI Tale scenario prevede l'esistenza di una sola civiltà di tipo 2 o 3 Non siamo in grado di ricevere comunicazioni da altre civiltà I nostri tentativi di inviare e ricevere comunicazioni a distanza si sono basati sull'utilizzo di onde elettromagnetiche Così come prima di Guglielmo Marconi non avremmo neppure immaginato di usare questo mezzo Così attualmente potremmo non essere neppure in grado di immaginare le tecniche di comunicazione usate da civiltà radicalmente diverse dalla nostra Alcune tecnologie di comunicazione teorizzate potrebbero essere basate sui neutrini le onde gravitazionali o la correlazione quantistica Attualmente vi sono in funzione in alcuni laboratori rivelatori di neutrini e di onde gravitazionali in grado di misurare tali ipotetici segnali se particolarmente intensi Si può comunque ipotizzare che una civiltà attraversi diverse fasi di evoluzione tecnologica passando anche per le relativamente facili onde elettromagnetiche È ragionevole ritenere che scienziati di queste civiltà siano in grado comunque di ricevere e decodificare segnali radio anche se per loro sono ormai obsoleti ed abbandonati Rimanendo nel campo delle onde radio dobbiamo tenere in considerazione il problema della velocità della luce Le microonde da noi emesse da quando si è sviluppata la televisione si stanno ancora allontanando da noi alla velocità della luce in tutte le direzioni Il raggio in anni luce della sfera entro la quale queste informazioni sono ricevibili coincide numericamente con il periodo in anni dal quale le trasmissioni sono iniziate Nel caso della Terra questo valore è quindi di circa 50 anni luce La tendenza ad ottimizzare le trasmissioni per ragioni economiche come nel caso della televisione digitale o dei telefoni cellulari focalizzandole in fasci di microonde e sopprimendo la portante fa sì che i segnali trasmessi siano meno distinguibili da quelli di origine naturale dello spazio I critici di questa soluzione fanno notare che se una civiltà aliena volesse comunicare utilizzerebbe dei segnali facilmente riconoscibili come tali come ad esempio una modulazione comportante Se tale civiltà intendesse usare segnali di difficile ricezione per evitare di rilevare la loro esistenza ad altre civiltà più arretrate o pericolose si ricadrebbe nel caso della foresta oscura Inoltre alcuni dei mezzi di comunicazione proposti alternativi alle onde elettromagnetiche o sono speculazioni teoriche o siamo solo agli inizi del loro rilevamento con la tecnologia terrestre attuale L'ipotesi dello zoo Le civiltà superiori esistono e sono al corrente della nostra esistenza ma non si palesano per non interferire nello sviluppo naturale della nostra civiltà o negli affari interni del nostro pianeta questo finché la Terra non abbia raggiunto uno sviluppo tecnologico più avanzato di quello attuale Cioè ci avrebbero confinati in uno zoo cosmico in cui poter monitorare la nostra attività senza disturbarci Un po' come è previsto nella prima direttiva delle serie di Star Trek Siamo in una specie di planetario Si tratta di un'ipotesi un po' fantascientifica, ma molto intrigante È stata formulata nel 2001 dallo scrittore di fantascienza Stephen Baxter nel saggio L'ipotesi del planetario Baxter ipotizza che le osservazioni astronomiche compiute dal genere umano altro non sono che il risultato di un'illusione creata da una civiltà del terzo tipo nella scala di Kardashev che ci tiene rinchiusi dentro un planetario gigante Una civiltà del terzo tipo sarebbe in grado di ricreare artificialmente scenari mastodontici in cui gli esseri senzienti sarebbero persuasi di vivere come nel nostro caso, in un universo in espansione popolato da miliardi di miliardi di stelle raggruppate in miliardi di galassie Questa o queste civiltà aliene avrebbero fatto in modo non solo di risultare totalmente impercettibili a noi esseri umani ma anche di far credere alla popolazione terrestre di essere la sola civiltà e forma di vita nell'intero universo Una simulazione perfetta e ben congegnata nella quale noi rappresenteremmo solo un bit di informazione digitale A causa della forte caratteristica speculativa della teoria L'ipotesi è stata tacciata di inutilità in ambito scientifico in quanto impossibile da dimostrare anche solo cercando tracce che possano avallarla Tuttavia, diversi fisici sembrano averla presa sul serio Tra di essi vi sono Silas Beane, Zore Davudi e Martin Savage che hanno proposto una teoria secondo la quale l'universo che osserviamo possa essere una simulazione numerica realizzata in un reticolo spazio temporale cubico Questi fisici per dare un fondamento di scientificità alla loro teoria cioè dare i presupposti di una sua futura dimostrabilità suppongono che l'universo sia finito e che le risorse di potenziali simulatori siano finite Un volume contenente una simulazione sarà quindi finito e una distanza reticolare deve essere diversa da zero e da ciò consegue che in linea di principio resta sempre la possibilità per il simulato di scoprire i simulatori Lo spazio è troppo grande ed è troppo poco tempo che cerchiamo La via Lattea da sola ha un diametro di 100.000 anni luce quindi è plausibile che eventuali segnali radio inviati da alieni intelligenti limitati alla velocità della luce semplicemente non ci abbiano ancora raggiunti considerando anche che è da solo circa 80 anni che sono stati sviluppati i primi radiotelescopi e l'ascolto specifico di segnali alieni è iniziata circa 60 anni fa Gli alieni si sono tutti ibernati Anders Sandberg e Stuart Armstrong neuroscienziati ed esperti di intelligenza artificiale della Oxford University e Milan Circovich astronomo dello Astronomical Observatory di Belgrado hanno postulato l'ipotesi che se non abbiamo ancora visto alieni intelligenti è perché questi ultimi dopo aver raggiunto un grado di civilizzazione tale da permettere loro di esplorare una porzione considerevole dell'universo avrebbero scelto di ibernarsi in attesa di tempi migliori Questa teoria è basata sul fatto che la radiazione cosmica di fondo mantiene la temperatura media dell'universo più o meno vicina a 3 gradi Kelvin Ma con la progressiva espansione dell'universo stesso questa temperatura si abbasserà sempre più il che renderà più efficiente dal punto di vista energetico l'elaborazione delle informazioni Dunque gli alieni si sarebbero evoluti al punto da rimpiazzare i propri componenti biologici con componenti elettronici sempre più potenti e sofisticati ed avrebbero deliberatamente deciso di ibernarsi in attesa della diminuzione della temperatura dell'universo per risparmiare l'energia necessaria ad alimentarsi e far funzionare le loro megastrutture Questa è una delle ipotesi più recenti formulata da Alexander Berezin fisico teorico della National Research University of Electronic Technology Lo stesso Berezin la riassume così Il problema di alcune tra le ipotesi enunciate per rispondere al paradosso di Fermi è il fatto che definiscono la vita aliena in maniera troppo stringente Non è importante in realtà quanto la vita extraterrestre sia evoluta potrebbe esistere sotto forma di organismi biologici come noi o come intelligenze artificiali ribellatesi ai propri creatori o come menti enormi, simili a pianeti e distribuite su larga scala nell'universo o come alveari o sciami di organismi che formano una intelligenza collettiva molto evoluta eccetera Tutto questo non conta L'unico parametro che conta è che possiamo misurare la probabilità che tali forme di vita siano rilevabili dalla Terra Per Alexander Berezin la prima forma di vita che riuscirà a compiere un viaggio interstellare potrebbe spazzare via tutte le forme di vita concorrenti per non avere alcun intralcio alla propria espansione È un'ipotesi abbastanza terrorizzante ed anche un po' spietata ma il ricercatore sostiene che questo non significa necessariamente che una civiltà extraterrestre altamente sviluppata spazzerebbe consapevolmente via altre forme di vita Potrebbe essere che semplicemente non se ne accorgerebbe allo stesso modo in cui una squadra di costruzione edile demolisce un formicaio per costruire immobili perché manca il giusto incentivo per proteggerlo Berezin sta suggerendo che siamo le formiche perché non abbiamo ancora il viaggio interstellare e si prevede che non l'avremo nei prossimi decenni e la ragione per cui non abbiamo incontrato gli alieni è perché semplicemente non abbiamo ancora avuto la nostra civiltà distrutta da forme di vita così inimmaginabilmente superiore ma è anche possibile per Berezin che non siamo le formiche ma i futuri distruttori dei mondi stessi che stiamo cercando da decenni Ecco cosa vuol dire primi a entrare ultimi a uscire non ci resta che sperare un po' egoisticamente che tocchi a noi essere i primi e per ultimo la teoria del complotto ovvero il governo conosce l'esistenza degli alieni ma mette tutto a tacere ipotesi ridicola per il paradosso di Fermi ma per il dovere di Cronaca è una teoria che va riportata perché trova molti sostenitori in conclusione al di là di tutti i voli pindarici proposti c'è qualcosa nel grande silenzio dell'universo che ci lascia in uno stato di disarmante umiltà che va oltre il solito siamo una nullità forse siamo come i pensatori dell'antichità che erano sicuri che la Terra fosse al centro dell'universo sotto una cupola di stelle che la separava dal paradiso analogamente come loro non abbiamo idea di cosa sta succedendo e di come stanno le cose al di fuori del nostro pianeta questo è tutto grazie per la vostra attenzione e dalla prossima grazie per la visione